Buongiorno a tutti, oggi un video ha una sola variante perché vogliamo andare a vedere che cosa pensa di voi una determinata persona, anche che cosa prova per voi. Andiamo a vedere che cosa c'è nella sua testa. Non mi servirò degli oracoli perché vogliamo semplicemente andare a vedere proprio che cosa c'è all'interno della testa di questa persona. E andiamo a utilizzare due mazzi soltanto di tarocchi, quindi questi, i fantasy, dopodiché anche i classici, per vedere ulteriori dettagli. Partiamo subito con i tarocchi classici. Che cosa pensa di te questa persona? Che cosa pensa di te questa persona? Che cosa pensa di te questa persona? Ok, allora ragazzi, abbiamo il cavaliere di denari al contrario e la torre al contrario. Che cosa pensa di te questa persona? L'appeso al contrario. Che cosa pensa di te questa persona? Fante di bastoni. Che cosa pensa di te questa persona? La giustizia. Sul fondo del mazzo abbiamo il 6 di coppe. Dunque, quello che mi arriva a primo impatto, adesso ve lo dico, dopodiché andiamo con i tarocchi a vedere, gli altri tarocchi a vedere anche i dettagli, quindi a vedere carta per carta. Come energia generale ho l'energia di una persona che non è riuscito a voltare pagina, nonostante che saprebbe che è la cosa giusta. Infatti, abbiamo il 6 di coppe, che mi dice che per questa persona voi siete fonte di una introspezione. E' come se quando pensa a voi questa persona andasse a rivedere quello che ha dentro, cioè andasse a vedere una parte di sé che però non vuole ammettere a se stesso o a se stessa di avere. E' come se voi mostraste tutto ciò che di proibito questa persona non si permette di vivere nella sua quotidianità. Infatti, vedo che siete in grado di sconvolgere tantissimo la mente di questa persona. In un certo senso è come se gli portaste una boccata, una ventata d'aria fresca. La cavaliere di denari mi dice, adesso andiamo a vedere anche con questi tarocchi qui. Allora, in generale la torre al contrario, il cavaliere di denari al contrario, l'appeso al contrario. Mi dicono che questa persona non si è mossa di una virgola da quando vi siete lasciati. Se è un ex, io vedo che per tanti di voi questa persona è un ex, una persona con la quale il rapporto non si è andato a chiudere molto bene, si è andato a chiudere con vari conflitti, non è stato assolutamente chiuso bene con amicizia e con amore incondizionato e con le premesse di, diciamo, gli auguri di bene reciproco, assolutamente no. Tutto il contrario, tutto il contrario proprio. Questa persona ha smesso di manipolarvi, perché era anche una persona molto manipolatoria. Anche voi però avete utilizzato della manipolazione nel rapporto, quindi se è così, siete sinceri con voi stessi, ammettetelo con voi stessi, ma anche questa persona comunque l'ha utilizzato. Quindi era una relazione tossica questa qui, a tutti gli effetti. Vedo che questa persona ha smesso di manipolare voi e subire la vostra manipolazione. Adesso andiamo a vedere anche con gli altri tarocchi, ma quello che vedo con la torre al contrario è che quello che ha costruito con voi per lui o per lei non è mai crollato, cioè è rimasto in piedi praticamente. Non è mai riuscito a vedere in un certo senso le cose da una prospettiva differente da quella in cui l'avete lasciato lì a pensare, o comunque da quelle in cui questa persona ha pensato. Il fante di bastoni mi dice che questa è una persona molto infantile, una persona che, come dire, è anche una cosa positiva a volte, però è una persona che sostanzialmente va a imputare alla passionalità, alla passione, alle emozioni forti, tutto il significato della vita, ok? Quindi questa persona non è in grado di apprezzare le piccole cose, non è in grado di apprezzare nulla se non quello che sono, diciamo, le emozioni più forti, le emozioni quelle di impedo, no? La giustizia però ha fatto sì che voi vi separaste e andaste ognuno per la propria strada, perché probabilmente entrambi dovete trovare la capacità dentro di voi di apprezzare anche le cose più piccole, di trovare la capacità di utilizzare, diciamo, la gratitudine, di essere grati, di apprezzare anche ciò che non vi dà emozioni forti, ecco, perché questo è il grosso problema che ha questa persona, ma come specchio ce l'avete anche voi. È come se andaste a ricercare sempre delle emozioni molto molto forti, sia voi che questa persona, e se non ci sono delle emozioni forti che caratterizzano la vostra vita, è come se non valesse la pena di vivere sostanzialmente certe cose, o certi momenti, o certe relazioni. L'avete incontrata questa persona proprio perché appunto vi fa da specchio e vi deve insegnare a vedere che dentro di voi c'è anche quello. Andiamo a vedere, abbiamo il paggio di coppia al contrario. Vediamo un po'. No niente, soltanto questa. Volevo andarvi a spiegare ogni carta, quindi il cavaliere di denari con il paggio di coppia al contrario mi dice che questa persona aveva anche dei sogni rispetto al vostro rapporto, però questi sogni, sul fondo il mazzo del diavolo al contrario, erano a volte conditi da veramente tanta ossessività, veramente tanta tossicità. Il diavolo me lo rappresenta e poi al contrario è ancora più rafforzativo. tra di voi c'era una tossicità incredibile e quindi li ha un po' abbandonati. Infatti ha abbandonato quello che era il suo modo di dimostrarvi affetto e lo vedo anche un modo molto infantile. Questa persona penso che avesse un modo di dimostrarvi l'affetto legato alla sofferenza anche, cioè sia per voi che per questa persona all'interno di questo rapporto era come se la l'intensità del rapporto il l'amore anche proprio si misurasse sotto forma di sofferenza, cioè più quanto scusatemi più uno era disposto a soffrire per l'altro più il l'amore era grande sostanzialmente o comunque più l'intensità del rapporto era grande e di conseguenza anche più sofferenza si andava a ricercare in questa persona e più sofferenza si viveva più era intenso il rapporto perché ricordiamo che l'inconscio non ha un parametro di emozioni cioè l'inconscio si nutre di qualsiasi emozione quindi che siano emozioni premianti e positive oppure che siano anche emozioni così appunto di paura, di rabbia, di risentimento, di sofferenza, di dolore di di vergogna di non come dire anche proprio tortura psicologica va bene lo stesso all'inconscio purtroppo e questo è quello che succedeva a entrambi adesso andiamo a vedere alla torre che cosa vogliono aggiungere i tarocchi sostanzialmente per darvi una delucidazione su quello che questa persona pensa di voi pensa che voi li manchiate e pensa che siate stati importanti pensa che però non è riuscito o riuscita ad ottenere la vittoria su di voi anche perché questa persona ha una parte empatica ma anche una parte estremamente tossica e la parte empatica pensa che comunque gli manchiate eccetera la parte tossica invece pensa a questo quindi attenzione se vi volete riavvicinare a sta persona perché probabilmente potrebbe semplicemente riagguantarvi per farvela pagare per farvi soffrire ancora di più di quello che vi ha fatto soffrire allora cinque di coppia al contrario infatti il nove di bastoni e il paggio di spade al contrario allora la torre come abbiamo detto prima andava a parlarmi al contrario andava a parlarmi di sostanzialmente un'incapacità di questa persona di voltare pagina verso ciò che è stato tra voi quello che vedo è che non è stato in grado questa persona perché non è stato in grado di ricostruire la sua parte emotiva quindi di andare poi verso di effettuare un cambiamento di andare poi verso una nuova relazione di andare verso a qualcosa di di nuovo quindi c'è ovviamente dopo ogni relazione c'è quel periodo quel momento nel quale si va diciamo a ricostruire la propria interiorità anche a cucire le ferite emotive e questo praticamente permette di poi andare a investire emotivamente in un altro rapporto è come se questa persona non lo avesse fatto e fosse caduta in una sorta di stato depressivo vedo che anche con il nove di bastoni questa persona si sta o si sta e si è costruita in tutto il tempo che siete stati lontani una sorta di muro intorno una sorta di fortezza che va proprio diciamo a a istituire quella che la zona di comfort di questa persona questa persona è convinto convinta di poter avere qualcosa di di meglio ma sostanzialmente poi non è in grado di andarsela a cercare perché e si chiude da solo da solo nel suo nel suo muro scusate il muro nella sua fortezza no e quindi ecco questo è un po quello che ha fatto probabilmente deve un attimo guarire deve un attimo ritrovare se stesso se stessa deve un attimo andare a a ricostruire tanto dentro di sé per per le ferite che ha vissuto e questo è proprio quello che che sta facendo tramite questo barricarsi in casa figurativamente il paggio di coppia il contrario di di spada il contrario mi dice si va a legare proprio con il paggio di coppia il contrario di prima mi dice che questa persona anche nei conflitti aveva un come dire un modo di porsi molto infantile e anche di pensare da questo punto di vista e ha ancora ancora adesso un punto di vista infantile di pensare quindi durante questo periodo di isolamento diciamo di barricamento questa persona lo sta capendo lo sta comprendendo e sta capendo anche che cosa aveva sbagliato con voi naturalmente questo è un iniziazione diciamo carmica di questa persona del suo percorso iniziatico del suo percorso personale quindi sostanzialmente devo dirvelo apertamente a voi non frega niente di sapere di questo ma adesso state deliberatamente andando a farvi gli affari di questa persona perché sappiate che se state ascoltando questa stesa per andare a ricontattare questa persona liberissimi di farlo ma non è una cosa sana perché andiamo a rivedere a quello che abbiamo detto prima è una relazione tossica queste sono lezioni le lezioni che questa persona sta imparando dopo la relazione con voi esattamente come voi avrete imparato qualcosa dalla relazione di questa con questa persona quindi è semplicemente il suo strascico di lezioni che deve imparare l'appeso il contrario andiamolo a dettagliare bene con dettagliare cioè andiamo bene a vedere i dettagli con questo mazzo qua stava girando incredibile ragazzi prima mi si sta c'è assurdo mi si stava girando una carta non si è girata bene allora io ho ricominciato a mischiare ed è uscito di nuovo la stessa carta adesso cioè vabbè allora il fante di scusate il re di pentacoli mi dice che innanzitutto questa persona farà veramente fatica a cambiare la prospettiva il cambiamento di prospettiva per questa persona sarà molto molto lento e mi azzardo a dire che secondo me gli avete anche fatto del male a questa persona cioè era una relazione tossica e quindi come questa persona ha fatto del male a voi ma sicuramente anche molto molto male l'avete fatto voi a questa persona non lo escludete questo e non dovete adesso sentirvi in colpa semplicemente andata così doveva andare così probabilmente questa persona aveva delle robe da imparare da questa relazione con voi quindi assolutamente è una cosa giusta positiva perché a volte proprio è l'universo che ci manda le relazioni tossiche in modo che prendiamo delle batoste e impariamo qualcosa e questo è il caso di questa persona voi siete stati un po' quello che l'ha fatto addentrare di nuovo nel suo inconscio infatti vedo che appunto è un arrivo lento ma questa persona si trasformerà dopo questo diciamo ritiro possiamo definirlo si trasformerà da persona estremamente infantile a persona a uomo energia maschile perché per tanti è un'energia maschile potrebbe anche essere che voi siete uomini e state guardando una donna o un altro uomo con un'energia maschile preponderante assolutamente quindi questa persona vedo che si trasformerà poi in qualcosa una persona un tipo di persona più maturo più consapevole e forse in grado di essere anche premiante ma non non è la persona per voi almeno questo quello che mi dicono le carte ora ma dopo andremo ad approfondire ulteriormente inoltre vedo che questa persona diventerà con questa trasformazione molto generosa anzi scusatemi lo è già nel senso che è già una persona generosa di Con le proprie cose quindi magari condivide il denaro condivide i propri beni e voi l'avete constatato all'interno della relazione e quello che vedo è che questa sua generosità d'animo non non fa sì che questa persona praticamente vada a Cambiare la prospettiva su quello che ha vissuto e quindi liberarsi un po da anche la relazione tossica avete fatto parecchio male a sta persona ragazzi quindi Un po vedere il fante di bastoni Allora abbiamo il 3 di denaro al contrario Sul fondo del mazzo abbiamo l'imperatore Allora anche qui abbiamo un avanzamento verso una sorta di equilibrio mentale che avrà questa persona infatti il fante di di bastoni come vi dicevo prima è una figura infantile e molto molto impulsiva Diciamo che Il 3 di di denari Al contrario mi vuole dire che questa persona non ha un equilibrio mentale Concreto Ok quindi questa persona in questo momento non è in grado di Essere equilibrato dal punto di vista materiale fare pensieri concreti Sul proprio futuro sulla propria vita sul proprio il Tenere in piedi la propria vita e magari anche fare delle cose materiali o riuscire a ottenere Qualcosa insomma di materiale che lo possa soddisfare purtroppo L'imperatore mi dice che però potrebbe assolutamente andare poi verso una una riuscita positiva L'imperatore è anche purtroppo però una figura tossica in certi contesti e questo è uno di quelli perché Denota un'infantilità di base in questa stesa in queste accoppiata di tre carte Con però all'interno diciamo introiettata questa sorta di Come dire energia tossica maschile di controllo che dovrebbe avere vorrebbe avere il controllo su tutto e su tutti Vorrebbe è un po una persona anche narcisistica questa qua nel senso che è molto infantile però vorrebbe Avere in realtà il controllo Esercitare il controllo su se stesso sulla sua vita e anche sugli altri Quindi In realtà Cioè ha questa energia dentro che probabilmente è proprio l'energia che è entrata in conflitto con voi in realtà quando stavate in rapporto Questo mi risuona solo per alcuni di voi perché invece per altri di voi potrebbero esserci stati dei conflitti magari su altri aspetti come magari Anche sulla gelosia su cose di questo genere Però per alcuni di voi era proprio questo ma è quello che mi mostra questo che questa persona vorrebbe avere il controllo essere più saggio essere più No anche una persona Riconoscibile dal punto di vista proprio del suo valore ma quello che poi ottiene in realtà è solo Una Inconcretezza in concludenza e soprattutto un non equilibrio dal punto di vista Concreto e materiale della sua vita Andiamo a vedere la giustizia Perché c'è la giustizia e che cosa mi vuole dire Ok abbiamo Ok ok Abbiamo il set di spade al contrario Fantastico ragazzi Questa cosa qui adesso ve la dico E vediamo ancora una carta Mi insega Asso di bastone al contrario Sul fondo del mazzo abbiamo la temperanza al contrario Allora Vi dicevo così perché Perché questa persona Stando in rapporto con voi Ha capito per una giustizia maggiore Quindi una giustizia dell'universo che Lui era una persona manipolativa Era una persona Si è visto Si è visto dentro Si è guardato addosso e si è reso conto di quanto sia stato tossico Nei vostri confronti Questo ha fatto sì Con tossico intendo una persona non affidabile Una persona che tende all'inganno Che tende a mentire Che tende anche a svalutare A svilire magari la persona amata A non essere una persona su cui poter contare Questo Questo è stato con voi Questa persona In tanti casi Specialmente alla fine del rapporto E voi anche Da vostro canto avete fatto lo stesso Quindi ripeto ancora una volta Che Con l'energia del 6 di coppe Quello che mi dice È che voi Probabilmente E questa persona State affrontando Un percorso di consapevolezza Entrambi Per vedere Tutte le vostre parti tossiche interne Quindi Se voi fate luce Su quello che avete fatto Quando eravate con questa persona Vi rendete conto delle vostre parti tossiche Se questa persona fa luce Su come si è comportato nel rapporto con voi Si rende conto delle sue parti tossiche Quindi è una relazione che vi è arrivata Proprio per un'evoluzione È una relazione Importante a livello evolutivo Sia vostro Che di questa persona qui Io vedo che questa persona Ha finalmente Visto Chi è E che Purtroppo Ha perso anche L'attrazione Nei confronti di voi Ma Ma anche Proprio in generale Cioè questa persona Non ha più Una spinta Sessuale Nei confronti della vita Purtroppo mi sembra Molto depressa Questa persona A dirla tutta E Come dire È come se Proprio Fosse arenata lì Sia dal punto di vista Della vita Sia dal punto di vista Proprio anche Ripeto Del provare attrazione Verso Qualcun altro Un'altra donna Un altro uomo Una nuova persona Avere un nuovo inizio Dal punto di vista Proprio di tutto Quindi Cioè Non riesce a Proprio andare a Manifestare Nuovi inizi Questa persona Purtroppo Non è una questione Di tempo Questo Cioè nel senso Sì che si è Diciamo chiuso In questo Un liquido amniotico Però Per Ristabilizzarsi Però Non è una questione Di attesa Cioè non è che Questa persona Non è che Questa persona Stando lì Nel suo liquido Amniotico Riuscirà a trovare Una soluzione Alla sua vita No Anzi Io vedo che Non è tempo divino Che Gli sta servendo Per Ricostituirsi No È proprio Andata in down E questa persona E vi dico anche Che probabilmente Questa persona Sta alimentando Da solo O da sola Questo down Sta alimentando Questa Questa tossicità Quindi magari Si sente in colpa E sta alimentando Questa tossicità Nella sua vita In modo che Continui a stare male Purtroppo Inconsciamente Queste cose Succedono Vado ancora A chiedere una carta E poi ragazzi Io direi che Possiamo anche Chiedere una carta Agli oracoli A questo punto Esatto Il matto Il matto Mi dice che Mi dice che Questa persona Potrebbe Ricominciare Da capo Solo Se Avesse Un impulso Di follia Cioè Sente questo Perlomeno Di poter Diciamo Andare Verso Verso La vita vera La vita che lo emoziona Solamente Attraverso La follia Attraverso L'assenza Del controllo E abbiamo visto Con L'imperatore Che questa persona Invece Vuole controllare Quindi è molto Difficile Per questa persona Perdere il controllo Però Potrebbe Esserci Speranza Vediamo Un po' Con gli oracoli Che cosa Ci dicono Ok Abbiamo Dipende da te La meditazione Porta risposte Sul fondo Del mazzo Abbiamo Successo Questo Ovviamente Va detto A quella Persona Se mai Ci parlerete Sarebbe Un consiglio Per quella Persona Però Non è che Voi siete Più Neanche Tanto Nel Secondo Me Nella Come Dire Nell'energia Per dirglielo Cioè Se avete Interrotto I contatti Io Non so Se sia Una Buona Idea Riprenderli Ragazzi Non lo Farei Ripeto Però Libero Arbitrio Non lo Farei Perché Comunque Non vi Porta da Nessuna Parte Dipende Da te Dipende Da quella Persona Riaprirsi Al mondo Dovrebbe Meditare Per ricevere Delle Risposte E potrebbe Poi Avere Successo Nel Ricostruirsi Poi Qualcosa Di Buono Di Positivo Comunque Niente Voi adesso Sapete Che cosa Pensa Di voi Questa Persona Ripeto Consiglio Spassionato Che mi Hanno Dato Le Carte E Questo Questa Persona Non ha Superato La fine Della Relazione Con E è stata Una relazione Tossica Da entrambi I lati Quindi Non andate A ricontattare Questa Persona Oppure Per sperare Di riaprirci Un rapporto Perché Perché Questa Persona Probabilmente Semplicemente Deve Superare Quello Che è Successo Anche voi Dovete Superare Tante cose Vedo Perché Dovete Utilizzare Questa Relazione Come Specchio Quindi Il consiglio Spassionato Che vi Do Se volete Andare Nella direzione Giusta E non perdere Tempo Prezioso Per la Vostra Vita E non fare Del male A questa Persona E questo Utilizzate La relazione Che avete Avuto Come Un Specchio Andate a Vedere Dove avete Sbagliato Che cosa Avete Fatto Di Tossico Quali Sono stati Gli atteggiamenti Tossici Che avete Avuto Con Questa Persona E lavorate Sul Comprendere E accettare Queste Parti Di Voi Punto Questo Dovete Fare Adesso Che è finita La relazione Non andare Magari A riprenderla Eccetera Perché Guardate Che potrebbe Ritorci Versi Contro In vari Modi Il primo Modo È che Perdereste Tempo Per trovare Una persona Premiante E naturalmente Lo farete Perdere Anche a lui O lei Il secondo Modo Ragazzi È che Questa Persona Ricordatevi Che ha Anch'essa Un Aspetto Tossico Quindi Non è che Se voi Ci andate A ricostruire Una relazione Allora Va tutto Bene Perché Perché Magari Non vi ha Dimenticati No Questa Persona Dentro Ha una Parte Molto Tossica Molto Vendicativa E Molto Arrabbiata Con voi Che Praticamente La fa Comportare Così Adesso Quindi Poi Quella Cosa Lì Si scatenerebbe Contro Di Voi E Anche Se La Contattaste Succederebbe Cioè Si scatenerebbe Contro di voi Tutta quella Rabbia Che non vi è mai Riuscito Magari A dire O a Esprimere Perché Questa Persona Fondamentalmente Questa Parte Di Questa Persona Tossica Questa Parte Tossica Scusate Di Questa Persona Vuole Vedervi Soffrire Come Sta Soffrendo Questa Persona Vuole Vedervi Star Male Quindi Non Andate Contro A Quello Che Cioè Non Andate Voi Incontro Alla Sofferenza Ok Sta Soffrendo Questa Persona Ma è giusto Che sostra Perché Soffrendo Può Iniziare Magari A guarire Quella Parte Tossica Lì Di cui Stiamo Parlando Adesso Quindi Lasciatela Nel Sobrodo E che Gli sia Servito Da Lezione Per Insomma Magari Anche Migliorarsi Allo Stesso Modo Migliorate Voi Prendete Voi In Mano Tutte Le cose Che Avete Visto In questo Rapporto Che Magari Anche Questa Stessa Persona Vi ha Fatto Vedere Di lati Tossici Dentro Di Voi E Lavorateci Per Migliorarli Se Avete Bisogno Magari Anche Di Un Affiancamento Terapeutico Potete Cercare Un Terapista E Insomma Oppure Una Persona Che Vi Aiuti Dal Punto Di Vista Proprio Del Coaching Spiritualità Magari Anche Un Percorso Spirituale Può Ma Mi Raccomando Fate La Scelta Giusta Perché Vedrete Che Sarete Ricompensati Dall'universo Ok Io vi Ringrazio Vi saluto E Ditemi Cosa Ne Pensate Nei Commenti Aspetto Assolutamente Le Vostre Opinioni Le Vostre Vicende Raccontatemi Che Cosa È Successo E Come Mai Avete Questa Situazione Con Questa Persona Ok Ci Vediamo Domani Alle 20 Con Una Nuova Lettura Io vi saluto Vi abbraccio E vi mando un bacio Ciao ciao